Extreme Treasure, ve leggi alla scoperta del tesoro dei pirati. Sulla confezione a forma di antico forziere puoi vedere quali sono le splendide pietre preziose da trovare. Sono pietre vere e sono undici in tutto. E in più ci sono due mitici dobloni dei pirati placati in vero oro e argento. Iniziamo questa avventura? Apri lo scrigno. Esplora il contenuto. Hai tutti gli attrezzi per iniziare la tua avventura. All'interno della confezione trovi la riproduzione di un'antica mappa del tesoro. Puoi adoperarla come base di lavoro o come tabellone per inventare divertenti giochi pirateschi. E nel Leaflet Guida trovi tutte le istruzioni per scoprire la storia e le caratteristiche di ogni pietra. Rarità, preziosità, valore. Scarta il vecchio forziere. Usa i due utensili dell'esploratore che trovi nella confezione. Prima di scavare immergi il forziere in acqua per 5 minuti. E ora sei pronto per questa caccia al tesoro. Comincia a scavare. Non mollare. Vai avanti. Aiutati con lo scalpello per andare sempre più a fondo. Le pietre sono quasi vicine. Ecco la prima pietra. C'è ancora un'altra sorpresa da trovare. Non fermarti. In ogni forziere ci sono sempre nascoste due pietre preziose. Continua a scavare. Ecco il mitico doblone d'oro. Lava il doblone e le pietre per riportarle alla loro lucentezza originale. Ora prendi il leaflet per effettuare il riconoscimento delle pietre e completare la tua splendida collezione. Lapislazzulo, ametista e matite. Ecco le una dopo l'altra con la loro storia e le loro caratteristiche. Sono tantissime e tutte preziose. Collezionale tutte. Il tesoro dei pirati non ha segreti.